Siamo stati bravi dopo domenica a riscattarci, abbiamo dimostrato di avere un atteggiamento importante e subito a stare pronti a stare sul pezzo e l'abbiamo riportato oggi in campo secondo me in maniera fantastica. Ci siamo trovati bene, la squadra lavora bene in settimana, cerchiamo tutti i giorni di trovarci bene insieme sia di reparto che comunque nel collettivo e questo poi ci porta dei risultati in partita. Penso che gli intoppi ci siano da qualsiasi parte, in qualsiasi categoria e ce l'ha a qualsiasi squadra. L'importante è come si reagisce, quando si cade l'importante è reagire e oggi abbiamo dimostrato che ci siamo realzati in un gran modo e adesso pensiamo alla partita prossima che è quella più importante.